ninja teenage mutant ninja turtles in time è un titolo che dura 12 ore ragazzi ben tornati sul canale di storm player oggi siamo di nuovo su super nintendo per giocare per provare insieme questo gioco delle tartarughe ninja eccole quale vedete le vedete è solo una perché si può giocare comunque anche in due dall'epoca dei tempi si steva già un videogioco dedicato alle tartarughe ninja come al solito io ero piccolo all'epoca non ci ho mai giocato non ci avevo mai giocato fino ad ora ma non è mai troppo tardi come sapete per provare i giochi del passato ci stiamo dedicando molto a questa tipologia di videogiochi i vecchi giochi ragazzi vecchi giochi quelli magari che abbiamo già giocato in passato oppure che non ci abbiamo mai giocato come me io molti titoli che sto portando ultimamente sul canale non li avevo mai giocati ma oggi ragazzi senza perdere altro tempo è andato a vedere qualcosa su internet qualcosa di veloce le tartarughe ninja questo teenage mutant questo teenage mutant ninja turtles in time è un videogioco arcade prodotto dalla konami si tratta di un videogioco a scorrimento dove dobbiamo andare ad ammazzare con le nostre armi non so se magari leonardo donatello michelangelo e come cacchio si chiama quell'altro hanno delle armi differente l'uno dall'altro però qualcuno mi ricordo che aveva le spade qualcuno aveva il bastone nasce nel 1992 esce su siga mega drive genesis e lo stesso anno fu anche pubblicato per super nintendo ma andiamo subito a provarlo ragazzi mettetevi comodi perché ci stiamo per divertire a un gioco del 1992 voi direte come fai a divertirti a un gioco del 1992 cacchio io mi diverto un sacco ai vecchi videogiochi specie a quelli che non ho mai provato a quelli che non ho mai giocato riscoprendoli oggi provandoli oggi ragazzi intanto iniziamo riscoprendoli oggi alcuni mi stanno veramente sorprendendo quindi fatevi sapere anche voi se avete giocato in passato a questo titolo delle tartarughe ninja su snes su super nintendo entertainment system ma andiamo subito a provarlo l'ho detto 12 volte ma non me ne frega un cacchio allora infatti avevamo leonardo che aveva la spada michelangelo aveva i cosi che girano la non solo si chiamano donatello aveva il bastone e raffaello pure ci aveva tipo dei pugnaletti ora ragazzi non mi prendete in giro se non so i nomi di queste armi perché onestamente non è che mi interesso alle armi però non me ne frega un cavolo vado a prendere in questo caso raffaello con le sue con i suoi pugnali chiamiamoli così va via si parte prima scena ragazzi il primo livello big apple si salta si possono dare pugni calci volanti qua attenzione attenzione mamma mia attenzione è pazzo raffaello è pazzo bellissimo se li lanci se li lancio se ne vanno subito davanti alle palle quindi non mi ha preso lasciami stare io sono raffaella raffaella oh quasi la palla che cade finchia si vabbè rimango qua tutta la notte la pizza ragazzi la pizza mamma mia con i calcivolenti qua oh come ti permette no mi ha preso raga volevo io voglio fare una mossa speciale venite qua brutti ninja di merda ma io invece di prenderli io mi prendono loro oh ho fatto scoppiare una cosa bellissimo quando faccio così minchia no quando prendo la scossa divento una rana cos'è vieni qua che ti ammazza questo gioco bellissimo ragazzi ci si diverte sti giochi eh assicurato vieni qua vieni oh attenzione ma cosa stai in porto da solo dai dai che dobbiamo scorrere io la prendi di botte basta brutto schifoso no ma prezzo ho ucciso no non ho ucciso no come al solito ragazzi c'è l'ape questa questa volta è l'uomo ape ma non riesco a prendere non riesco a prendere dov'è oh più veloce del solito prima l'ho provato questo l'uomo ape a me mi colpisce sempre ti metto sotto cos'è una mano gigante cosa cacchio sta ridendo sto pirla minchia oh quante mazza quante mazza ti sto prendendo io cosa ridi oh no ti ammazzo baxter dei miei stivali muori muori è morto è morto ragazzi scoppia così scoppia kawabanga ragazzi questo gioco ragazzi mi raccomando like e commento se vi sta piacendo questo gioco del 1992 cioè i tar no chiacchiere le tartaruga ninja ragazzi non mi ricordo manco come si chiama teenage mutant mutanda oh attenzione vola maledettamente spingo tutti e due i pulsanti ragazzi diventa si incazza fortissimo minchia oh però non ne faceva di mosse ragazzi bellissimo no mazza da tutti c'è un tombino mi stava lanciando il tombino sto pirla ti lancio via anche a te vieni qua vieni che ti lancio vieni che sono ste pirle di robot i pirloni robot di merda mamma mia bruttissimi oh sa cacchio lanciano non mi prenderai mai mi dispiace muori 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 oh ma ne arrivano tanti ragazzi questi sono tutti gli scagnazzi di shredder vi ricordate shredder ragazzi mamma mia questo l'ho lanciato fuori dal gioco mazzata a morì ma presa oh voglio fare una mossa segreta attenzione si si arrabbia raffaello vieni qua vieni vieni ancora vieni che non ti faccio volare via dal gioco no quando sono tanti no però secondo me la più efficiente è questa qua salto e calcio faccio fuori due lunette ma presa sto pir no ma ho ucciso ragazzi cerchiamo di arrivare alla fine di questo livello almeno non so se si possono recuperare le vite ragazzi oppure affidarsi solo alle continue e qua venite ah l'ho e voi ne fa dei mostri ragazzi ne fa ancora i robotti i robottini come si chiamava quel robottino là che volevamo quando eravamo piccoli robot quello lì il primo robot con l'intelligenza artificiale che non ne aveva l'intelligenza artificiale non mi ricordo come si chiama cosa è qua What? Mostre segrete pure ragazzi Oh ma chi ha fatto sto gioco all'epoca era un genio eh Ve lo giuro sto gioco secondo me All'epoca ha fatto impazzire tanta gente Cosa fai? Vi faccio vedere ragazzi cosa succede Cosa succede se vado qui? Cado Ma perdo la forza se cado nel tombino Il boss ragazzi il boss Mr. Head Vengo me Ti butto No Hai capito male Oh però No Non cade nel Oh non è giusto Eh questo è un po' più difficile Si hai un calcio alla volta morirai Aia Ma devi morire prima tu che io No No raga mi ha ucciso Si è incazzatissimo Stai per morire mi dispiace Mari E mori E vai a cacare la merda Si è incazzatissimo raga Mi sa che ha scoppiato Mi sa che ha scoppiato Sii E vai ragazzi Andiamo 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 Mr. Head è andato a casa E dai Mi fa gasare sto gioco Cacchio ragazzi Attenzione eravamo arrivati alla scena 3 What? Attenzione ho saltato uno Così Li sto scansando Soltanto Li sto scansando raga Riesco a beccarne uno Li salto solo Eh sono preso un pugnone Da stoppirle Guarda Oh mi f... Non lo so fare sto pezzo Ve lo giuro Non lo so fare Come si fa? Oh Che sono Della merda Dentro al mare stanno Come si scansano ste cose Ah devo saltarli Porco cazzo Ma salta Ai al piedo No voglio arrivare all'altro All'altro boss Ragazzi Lo giuro Ok Va a cacare La merda Pure tu Pure Sono assaltato Oh Questo è fortissimo Ok Arrivano le melme Attenzione Le melme Le melme Le melme Devi saltare Devi saltare Ok bravo Bravo Oh no Arriva Arriva il mostro Vediamo com'è Come si fa No raga No no Mi fa il culo Questo il culo Me lo fa Attenzione Ho colpito una volta Non riesco a colpirle Due Sono due Sono morto No no La batterò mai Questa ragazza È difficile Era un bonus point Era un bonus point No Arriva un altro Come si fa questo Ma sei pazzo Ma no 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 Questo spara Questo spara Malissimo Cosa fa? Mi devo avvicinare Il più che posso Colpirlo qui Se mi toccò Non arrivo No Salta ti prego No salta Se mi toccò Non mi colpi No mi colpi Ultimo No raga No raga Sono morto Non c'è che No no c'è un'altra vita Vai Come se non ci fosse un domani Se mi toccò Non mi colpisce Sì che mi colpisce Vanno spara ste cose Sì Ok scansiamoli questi No Dai dai ti prego Ti prego Uccidiamolo Sì Dai che qua Non mi colpisce Scansiamo sti cose Mettiamoci qua Sta per morire Sì Non lo so come l'ho fatto Non ci credo E ce la facciamo Uh La scena 3 ragazzi Let's go Questo gioco me lo mangio Me lo mangio Se inizio a giocare Me lo mangio ragazzi Attenzione Questa è una delle tante scene Che vediamo anche In questo gioco Veramente Fantastico ragazzi Teenage Mutant Ninja Turtles In time Mi scordo sempre Perché è lunghissimo il nome ragazzi Fatemi sapere se vi piace Questo gioco Se avete giocato In passato Fatemelo sapere con un like E un commento Specialmente ragazzi Per rendere il canale sempre più attivo Non dimenticatevi E se vi piace il canale Alla fine Potete anche Iscrivervi Mi raccomando Noi ci vediamo al prossimo video Dedicato ai giochi Del passato E non solo E let's go ragazzi Alla prossima Lo che ci vediamo allo Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.